Amici di Colpo di Tacco Web, seconda giornata del campionato di Serie A, secondo appuntamento per questa stagione con il nostro under-over dalla sala Lucky Store Eurobet Giannuzzi di Nardò, gioca con noi per questo turno di campionato Mauro Puglia centrocampista del Gallipoli, ciao Mauro, ciao buongiorno a tutti, allora hai visto quelle che sono le partite di questo turno, ti aspetti qualche sorpresa come nel turno precedente? La sorpresa c'è sempre quindi penso che poi le prime partite sia ancora più facile vederle, allora andiamo subito a vedere le partite del campionato di Serie A, quelle che hai scelto da giocare nella nostra schedina, vediamo un po', io ho scelto Sampdoria-Siena subito un 2, se guarda che vince fuori casa può essere la volta buona che inciampa subito, Siena che deve recuperare punti peraltro della penalizzazione del meno 6, Siena di Cosmi, poi Lazio-Palermo 1, diciamo che è una delle più tranquille, la Lazio ha iniziato con il piede giusto in campionato in Coppa, il Palermo ha spettato abbastanza domenica scorsa al cospetto del Napoli in casa, poi ho scelto un'oper dell'Inter-Roma, diciamo stando alle caratteristiche delle squadre potrebbe succedere, dovrebbe essere il risultato più sicuro, la quota pure più bassa, l'Inter di Stramaccioni che in particolare in casa perlomeno in Coppa ha preso parecchi gol, quindi vediamo un po', poi ho scelto un under, Catania-Genoa, Catania-Genoa-Under, il Catania che ha iniziato un bene, è una bella squadra, è affidabile, dovrebbe, speriamo, non soffra tanto in casa, poi la mia sorpresa è la rivincita dell'Udinese che riceve in casa la Juventus, ho messo un 1. quindi la Juventus che interromperebbe la sua striscia se non vado a rato di 40 risultati utili consecutivi, l'Udinese che si rilancerebbe alla grande dopo la delusione della Champions si, la delusione è tanta, però l'occasione per farla passare è ghiotta, perché c'è la Juve che è campione d'Italia in carica, quindi dovrebbe essere una buona occasione. E poi Parma-Chievo, X. X che potrebbe andare bene sia alla squadra di Donatoni che alla squadra di Di Carlo, facciamo un veloce riepilogo, quindi abbiamo Udinese-Juventus 1, poi Parma-Chievo X, Catania-Genoa-Under, Inter-Roma-Over, Lazio-Palermo 1, Sampdoria-Siena 2, visto quindi che qualche sorpresa tu hai provato a giocare, ti chiedo, è una schedina da giocare? Io la gioco subito, anche noi la giochiamo insieme a te, è una schedina amici di Colpo di Tacco Web che senza bonus darebbe 1.539€ e a questo punto io vi invito a provarci, ti ringrazio Mauro, grazie a voi.